La prima domanda è direttamente dal 1 gennaio 2021 per tutte le società UK limited, quindi tutte le società incorporate all'interno del Regno Unito che effettuano e-commerce, cioè vendite a distanza poi tecnicamente, sappiamo che non ci saranno più, non si applicheranno più i threshold classici per fatturato di vendita all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Spiego brevemente, chi vende a distanza nell'Unione Europea sa che quando vende in un determinato paese deve calcolare quanto sta vendendo, sopra dei threshold, delle soglie che variano dai 35-100 mila Euro annui per singolo periodo di imposta, è necessario identificarsi finiva nel paese dove c'è il mercato di sbocco, cioè se vendo in Francia mi devo identificare in Francia, se vendo in Polonia mi devo identificare in Polonia, eccetera. Dovrebbero esserci delle novità per quanto riguarda invece l'Inghilterra dal 1 gennaio 2021. Sì esattamente, quindi questi threshold non saranno più applicabili, cosa vuol dire? Che prendendolo dalla prospettiva di una società UK, se la società UK vorrà vendere ad esempio all'interno dell'Unione Europea, questi threshold saranno azzerati, non saranno più applicabili, quindi la società UK dovrà identificarsi ai fini IVA in ogni paese in cui desidera vendere. Allo stesso modo anche la società europea che prima vendeva magari tranquillamente verso UK perché non aveva raggiunto le 70 mila sterline di threshold, di limite annuo, sarà obbligata ora invece a identificarsi ai fini IVA in UK se desidererà continuare a vendere lì, quindi direi che questo è già davvero un grosso cambiamento. Diciamo che la Brexit complica anche questa situazione. Quindi è un problema sia per gli UK sellers, cioè per le società incorporate in UK, che per le società incorporate in EU, nell'Unione Europea, che però vendono in UK, quindi i threshold sono saltati nei confronti del Regno Unito, per cui non c'è più il 70 mila sterline di cap. Ottimo, quindi partite IVA con la pala e qui sarete contenti voi di poter aiutare e supportare i professionisti e le aziende. Sì esattamente, noi ovviamente provvediamo a questo, provvediamo sia dalla parte delle aziende europee che dalla parte delle aziende UK e siamo in grado di registrare ai fini IVA in UK, le aziende europee, ma anche nei principali paesi europei le aziende UK, quindi proprio da una parte e dall'altra. Quindi diciamo che ora abbiamo molto lavoro da fare, anche perché le aziende UK che desiderano ora registrarsi in Europa e finiva, sono davvero tantissime. E tra l'altro loro avranno bisogno di un rappresentante fiscale o di una identificazione diretta? Cioè basterà l'identificazione diretta o adesso siamo costretti a pagare un po' di più, in sostanza? In sostanza diciamo che per 17 dei 27 paesi dell'Unione Europea avranno assolutamente bisogno del rappresentante fiscale dal 1 gennaio e questo porterà a vari cambiamenti, ci saranno molti aggiustamenti da fare anche per le aziende che ad esempio avevano già partite IVA in Europa, come ad esempio in Italia, l'Italia adesso, le autorità fiscali italiane hanno dato un periodo di 6 mesi, quindi da arrivare a giugno 2021, per adeguarsi a questa cosa, per nominare un rappresentante fiscale. E così come l'Italia poi ha anche questi altri 17 paesi in cui è obbligatorio. Quindi sì, come detto, dal punto di vista del cliente, dal punto di vista di procedimento, non cambierà molto. Quello che cambia ovviamente sono i costi che sono leggermente superiori. Lo ricordiamo, mi permetto di ricordarlo, da fiscalista, il rappresentante fiscale tecnicamente svolge i compiti, le funzioni di un'identificazione diretta, tendenzialmente tecnicamente la stessa cosa, il problema è che rappresenta il problema, la caratteristica è che il rappresentante fiscale è solidamente responsabile con il contribuente nel versamento dell'imposta, cioè in sostanza se voi non pagate poi IVA, il problema è che il rappresentante fiscale e questo tendenzialmente fa levitare i costi di gestione, che make sense comunque, cioè in qualche modo anche i commercialisti devono reagire, insomma salvaguardarsi da eventuali problematiche di cassa, finanziarie, eccetera, eccetera, quindi è questo il vero problema del rappresentante fiscale. Quindi immagino che il costo appunto di un rappresentante fiscale sia leggermente superiore a quello di un'identificazione diretta adesso, anche tramite voi. Sì, 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 esattamente. Questo ovviamente era un servizio che noi davamo già alle società che venivano dall'infuori dell'Europa, non era una cosa che toccava prima le società UK, ma purtroppo, nota dolente per loro, adesso si dovranno anche adeguare a questo, quindi a una lievitazione dei costi per il servizio nei paesi in cui è necessario rappresentante, perché appunto ricordiamo che ci sono paesi come ad esempio la Germania, dove il rappresentante fiscale non è necessario, infatti al momento la Germania è uno dei paesi in cui riceviamo più richieste di registrazione in assoluto. Ok, perché loro invece non richiedono il rappresentante fiscale per le aziende UK, sono stati un po' più smart, diciamo, della… sì, poi anche qui parliamo, però non mi dilungo molto sul tema, ricordiamo sempre che siamo in Unione Europea, le regole dovrebbero essere uguali per tutti, poi non si sa com'è possibile che 10 paesi su 27 riescano a evitare l'identificazione dei rappresentanti fiscali, però diciamo che questo è un argomento politico magari… E' un mistero, ma… Non lo trattiamo, ok, ti ringrazio. Invece parliamo di un altro tema molto interessante, sempre per quanto riguarda le vendite a distanza, che pure interessa tantissimo la vostra e la mia platea. Come ha reagito invece Amazon al Brexit? Perché ci sono stati dei cambiamenti nei centri logistici, quindi la domanda è anche per le aziende UK-based, è possibile ancora lavorare tramite Amazon FBA o è diventato più complicato? Diciamo che è diventato leggermente più complicato dal punto di vista che le aziende UK che vorranno continuare a vendere negli altri Amazon market in Europa senza problemi, saranno obbligate a aprire appunto una partita IVA in uno dei vari market europei che ha Amazon e a mandare i propri prodotti direttamente lì. Questo ovviamente poi creerà vantaggi dal punto di vista logistico, dal punto di vista dei clienti, dal punto di vista magari anche dello status prime, però comunque è un bel cambiamento, infatti anche adesso stiamo assistendo proprio a una corsa dai parte dei sellers che vendono su Amazon UK per registrarsi più velocemente possibile in un paese dell'Unione Europea per poi continuare a vendere, anche perché Amazon ad esempio ha modificato anche il Pan European Fulfillment che c'era prima, che comprendeva tutti i suoi sette paesi in cui ha dei fulfillment centers e ovviamente ora è escluso UK, quindi anche da questo punto di vista ci saranno degli adeguamenti, se uno dovrà continuare a vendere in UK dovrà mandare lo stock direttamente in UK e poi successivamente mandarlo in un paese anche dell'Unione Europea, quindi in questo modo dovrà sdoppiare questo passaggio, mentre prima era in grado di farlo soltanto in un paese. Chiaramente con l'aumento dei costi, inevitabilmente. Sì, esattamente, quindi alta nota dolente. Infatti anche noi consigliamo ai nostri clienti già da tempo, da quando è cominciato il rumor della Brexit, di iniziare già a considerare altri centri logistici in Europa, di provvedere al trasferimento delle merci eventualmente situate in UK, perché anche lasciamo stare i costi e va bene, ma anche dal punto di vista temporale non è cosa che fai in 24 ore, quindi per trovarsi pronti poi dal primo gennaio in realtà avrebbero già dovuto iniziare. Comunque questa sarà quindi il leitmotiv di questi primi sei mesi del 2021. Ottimo, grazie Emilia anche per questo chiarimento. Vorrei farti un'altra domanda invece, però questo riguarda gli infomarketers. Abbiamo parlato di vendite a distanza, quindi dropshipping, compravendite, commercio diciamo elettronico, la Brexit però se ne parla meno in combinazione invece con gli infomarketers, quindi chi vende, chi fa info selling di infoprodotti, audiocorsi, videocorsi, eccetera, eccetera. In questo senso ci sono dei cambiamenti anche per loro, perlomeno per quelli che fanno queste attività, con una UK company, una società incorporata limited. Ci dice qualcosa in più? Sì esatto, ad esempio non potranno più iscriversi al MOS, quindi il MOS, quindi il one stop shop, quindi il sistema dell'agenzia delle entrate che permette di gestire l'IVA in tutti e 27 paesi dell'Unione Europea senza la necessità di identificarsi in ciascuno di essi, ecco le UK companies che fanno questo tipo di vendita non potranno più utilizzare questo sistema. Per continuare a utilizzare questo sistema dovranno identificarsi e finiva in almeno un paese dell'Unione Europea che permette questo. Quindi diciamo anche questo è un bel cambiamento, ovviamente invece le società europee potranno continuare, ma per quanto riguarda l'Inghilterra avranno sempre comunque bisogno ora di aprire una partita IVA anche in UK per continuare a vendere lì. Quindi anche questo è un bel cambiamento per le UK companies. Claudia, grazie mille, sei stata gentilissima, hai soddisfatto tutte le mie curiosità, adesso sicuramente io così come tutta la mia audience ne sappiamo molto molto di più, quindi ti ringrazio per questa opportunità e grazie anche per collaborare con me. Sì, ti ringrazio tanto anche io per questa chiacchierata e niente, quindi staremo a vedere che cosa succede adesso da gennaio, quindi tra pochissimo. A presto allora, grazie e alla prossima. A presto, grazie, ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.